No, 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 assolutamente no, non pure l'EPA. No, no, cioè, allora, innanzitutto, stiamo registrando. Diciamo che alcune cose che ora non possono... Ma se vuoi, se vuoi, non registriamo. No, visto che stiamo registrando, mi riferisco alla fonte, perché me l'ha detto una persona mentre facevo il mio lavoro di giornalista, però off the record, come dice, in leggerbo giornalistico, cioè, con la promessa, cioè, non stai registrando, mi ha detto, quindi... Cioè, a Roma non sempre funziona, cioè, noi dividiamo tutto, poi il sospetto che... Se poi tutto venga... Sì, mi sono chiesto, mi sono chiesto, mi compagno di smasso. E, cioè, il sospetto che tutto venga poi mischiato, che alla fine è abbastanza... E decontestualizzato, è questa, come lo dicevi. Sì, cioè, no, nel senso che uno fa uno sforzo, a volte, notevole nel da dividere con i soldati, perché teoricamente bisogna di togliere l'etichetta quando è il carta, mettere... Insomma, lo sforzo non è... Sisteremo, quando cucina le 8.40, acutarlo, i compiti, le tabelline, i pidotti... Cioè, da voi ci abbiamo avuto tutto, d'altro, come direte? No, che invece cerco di farlo, nonostante il dubbio, il sospetto che a un certo punto tutto venga mescolato, almeno, cioè, in realtà, veramente difficile da gestire come il nostro partiere, che è molto voloso. E, ecco, cioè, ci credo, non in modo, ci credo, quello che volevo dire è che, no, nel prezzo non mi ricordo, però la mia posizione comunque è che, cioè, io lo faccio non perché penso che serva completamente a qualcosa, ma per educare me stessa e i miei figli a un atteggiamento buono nei confronti del creato. Non credo che abbia, e anche il Papa comunque dice, che le piccole abitudini individuali non possono poi più di tanto. Cioè, se uno vive in una città, appunto, dove io ho una fila di macchine sotto casa dalle sette alle nove e mezza, cioè, ma con lo smog, il semaforo, e quindi una fila di smog ininterrotto, poi è utile che compro le zucchine biologiche, come ho pure fatto ai figli quando facevo le bambine, tutto in teologica, cioè, lo faccio più in emozione perché uno cerca di vivere, però, ecco.